Una nuova luce sul ferro di cavallo nel quartiere Rancitelli a Pescara grazie a un'installazione di light painting firmata dall'artista Giulio Gennari. Sì, è un progetto ambizioso, io sono appunto del quartiere e quindi per me era fondamentale e importante presentare un progetto alla mia città. Quindi ci vuole veramente tanto coraggio per presentare un progetto così e il sindaco l'ha avuto. Quella di Giulio Gennari è stato detto non è soltanto un'opera d'arte di grande valore estetico ma rappresenta anche un importante strumento per dare nuovi significati e valori ad un luogo che diventa spazio di incontro e di cultura capace di attrarre cittadini e turisti. Sicuramente una rinascita, il coraggio di superare le difficoltà, la voglia e la forza attraverso la cultura di farlo con umiltà e tanta perseveranza. La tecnica dell'eye painting dà la vita ad un calidoscopio in continua evoluzione capace di emozionare e di catturare l'attenzione del pubblico. Ma diciamo la vedremo oggi con ovviamente una presentazione, una progettazione. Io consegno questo progetto alla mia città e poi sarà la città a rispondere per la realizzazione. C'è il timore che quest'opera possa essere danneggiata visto le difficoltà che si vivono nel quartiere? Assolutamente sì, però penso che sia accolta bene dai cittadini e dai residenti perché potrebbe essere una delle tante opere che arricchiranno ovviamente un quartiere che ha bisogno di respiro e di vivibilità. Grazie. Grazie. Grazie.